Sono contento, sono Claudio Bisio, intanto questo diciavano perché non tutti, qualcuno mi scambia per Zingaretti, Crozza, ma sta un pelato per... Invece sono Claudio Bisio, non è il primo libro che audio, cioè che leggo, e sono felice, soprattutto con Emmons, quanti ne abbiamo fatte insieme. Questo è il Paradiso degli Orchi, che è il primo della saga di Malo Sen, di Benjamin Malo Sen, il capro espiatorio, ne ha scritto almeno 5 o 6 addirittura. Io ho avuto la fortuna di conoscere Daniel personalmente, Daniel era un professore di letteratura, un grande lettore, non un bravo scolario, di fatto però ha scritto un libro, un diario di scuola, dove racconta le sue disavventure scolastiche, non ha avuto una vita scolastica felice, e in questo mi ci riconosco. Comunque, da adulto ha recuperato, o forse ha sempre avuto, mi sconosciuto dagli insegnanti, un amore per la letteratura, per la lettura. Questo mi sembra sia stato proprio, sicuramente, della saga il primo, forse il primo in assoluto suo libro, che l'ha fatto veramente scoprire in tutto il mondo, fu un fenomeno agli inizi veramente esplosivo. Forse, forse, tutto questo alla clientela piace, una falsa apparenza di pericolo che stuzzica il prurito consumatorio, il desiderio, inoltre, di vedere che aspetto può avere un negozio dove esplodono delle bombe. Io, di Malo Sen, un po' perché l'ho recitato tante volte, e un po' perché anche, sì, sì, qualcosa, mi sento qualcosa di lui, qualcosa mi appartiene, perché essere capo ispettorio vuole anche dire essere un gaffeur, in qualche modo, pestare le merde, scusate se ho la parola, pestare. E lui è così, e io sono abbastanza così, quindi un grande gaffeur, inconsapevole. Un giorno vi racconterò tanti aneddoti che riguardano Michele Serra, Benny, cioè, ne faccio con tanti. Poi lui ne fa, lui, Daniel, parlando di Benjamin, ne fa letteratura, e io sono più prosaico, insomma, proprio così. Ti esplodono bombe sotto il sedere, una coalizione di indiani ed eroi te lo taglia sul più bello, e il tuo cane adorato si abboffa tranquillamente al solito ristorante. Porco di un Julius, non ti conosco più. Leggere ad alta voce è ideonismo e narcisismo, l'ho detto tempo fa, e lo confermo perché lo dico sia da ascoltatore, da spettatore, o ascoltatore in questo caso, uditore, non so. Amo ascoltare gente che legge, e amo anche leggere, un po' perché sono un attore, lavoro su quello, anche, ma anche perché mi piace, a volte mi capita anche di leggere ad alta voce da solo. Cioè, un libro lo leggo perché sarà una deformazione professionale per vederne il ritmo, stavo pensando a Fili Pronto. Non so se fosse lui o qualcun altro che diceva che quando scriveva, quindi uno scrittore, non un attore, che quando scriveva poi si rileggeva ad alta voce per vedere se la struttura reggeva. E ha senso quello, ha senso questo. Magari nella pagina il bianco, il rapporto tra il bianco e il nero, c'è un fatto anche fisico e così, l'immagine estetica, il rapporto tra il bianco e il nero, c'è quanto fitto è il bianco, però magari così ti torna, no? Poi se lo leggi magari vedi che non c'è un punto da qua a là e non riesci a leggerlo, forse un punto va messo a un certo punto. Ti invito a scoprirlo, sia leggendolo dal vivo, cioè cartaceo, sia, se volete, ascoltandolo con la mia voce. Uscirà tra pochissimo con Emos. Vi aspetto. Grazie.